Senatore Rigoni, a 34 anni di distanza dal terremoto che ha coinvolto la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, che cosa sta succedendo? Succede che prorogano ancora per un anno la figura del commissario adatta ed è scandaloso dopo 34 anni. Voglio qui ricordare che nel 78, quando c'è stato il terremoto nel Friuli, dopo 2-3 anni tutto era sistemato. Qui invece stiamo parlando ancora di una figura che permane, secondo noi, inefficacemente dopo 34 anni. La Lega ha presentato un emendamento soppressivo a questa proroga, ci è stato bocciato, ma ne abbiamo presentato un secondo che fortunatamente ci è stato accolto che impone al commissario adatta, dopo 30 giorni della conversione in legge di questo decreto, di venire presso le commissioni parlamentari competenti a illustrare con una relazione lo stato dei fatti, una rendicontazione dei soldi spesi e sono tanti, perché con questa proroga gli vengono dati ulteriori 100 milioni di euro e se questa relazione non avrà il parere favorevole della commissione parlamentare, il commissario adatta decadrà alla fine del mese di aprile del corrente anno. Un piccolo risultato della Lega Nord, speriamo che gli altri colleghi nelle commissioni parlamentari valutino punto per punto questa relazione che noi abbiamo costretto a formulare.